salve a tutti i ragazzi sono lor kane e vi do benvenuto a questo nuovo filmato di analisi quindi andiamo a vedere le mani di bexley fra l'altro si ormai me l'è passata una settimana fa sono in ritardo mi dispiace siamo arrivati solo ci abbiamo fatto solo ora 20 mila mani giocate nel nostro level up tra nl 5 e nl 10 anche se c'è qualche mano nl 2 e già diceva io che non so bene quanto riusciremo a trovare da un pacchetto di mani con delle buone sta generale i buoni impostazioni di vicento attorno ai 20 fra l'altro level up un po da leone ci chiamate solo stiamo anche sopra e vi quindi tutto bene tutto bello ma chiaramente a noi che dobbiamo sempre cercare qualcosa su cui migliorare il nostro gioco anche quando le le sessioni sono tutte buone tutte positive sennò è cosa ci stanno fare tra l'altro abbiamo anche uno small blend positivo vorrei vedere se ci sono molte mani di zap per capire come mai abbiamo addirittura uno small blend positivo e più che altro per invidia ve lo dicono da 210 giocatori ma ne bastano due e abbiamo sì diverse mani giocate zap in postazione un po chiusa in realtà in zap ma sta facendo bene ma non ci sia comunque molto fisciame in questi casi possiamo quasi sicuramente aprire un po di più ma il motivo per cui abbiamo i blind positivo è questo vorrei vedere allora il filtro su tra o più giocatori quando andremo ad analizzare queste mani per vedere cosa fa io negli spot normali comunque il nostro bb 100 è ancora pazzesco cioè ma che ci mancherebbe figata fare meno zero quattro e quindi super bene senz'altro le nostre stats si chiudono un attimo tolte le zap ma restano comunque molto molto buone non si riesce persino sono buoni le tribette ben distribuite non abbiamo una linea di col col stiamo probabilmente leggermente overfoldando il buio visto che abbiamo solo 20 di col in questa posizione quindi c'è danno un po alto anche complice di un era piuttosto buona in generale abbiamo visto una rossa proprio buona in realtà facciamo meno 100 con più 300 quindi un rapporto di uno contro tre veramente fantastico anche perché insomma il people's poker il field è quello che è non è che siamo dei giocatori così fantasticamente fortissimi anzi e quindi tutto bene in generale niente da dire ci concentreremo un po sulle mani specifiche cerchiamo di scendere un po velocemente tanto non ce ne sono molte del nome 10 quindi dovremmo scendere in fretta sui piatti un po più piccoli che sono più interessanti questa mano la vediamo dal punto di vista di un altro student io già so qua cosa iro delle stats abbiamo una vaga 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 linea di over playing ma in realtà sta facendo soldi non ci possiamo lamentare difese sono buone l'overfold e blind senz'altro nei tribettati ci manca un po di linea verso un po spostata verso una strategia più gto e non dico che sia sbagliato per un field di questo tipo insomma abbiamo reg del gruppo con un reg sensato semilose aggressive che fa soldi un reg non del gruppo di profilo nitti abc fish fish quindi non è che dobbiamo avere per forza una linea estremamente balance di tion protezione dei nostri ranger dobbiamo cercare di giocare bene anche le mani per fare soldi contro questi tipi di giocatori ma vedo una tendenza un po bassa nella linea di pol di cibetta e una linea di check fold mediamente alta ora un po difficile dire che siano stats consolidate sono 20 mila mani nel breve periodo succede un po di tutto ma è una cosa da tenere in considerazione una buona apertura giusta la difesa c'è che di villa su questo bordo in realtà anche una testa possiamo sempre con cercare noi qua abbiamo cap acqua picche per intenderci la bet verso smith ed è un po piccola size non riusciamo a crearsi proprio il piatto giusto è uno squizzato siamo noi p oppo ha cercato check dipende da strat di oppo se sta cercando full range chiaramente sul range è molto coperto se non lo sta facendo è abbastanza più debole questa size non si apre molte porte sui tarn e poi chiama oppo sul tarn oppo e shout mettando giocato un po alternative per poi mandare la vasca e qui c'è un po un errore intanto la size flop non ci apre le strade si tarn e le bet verso smith ed è un quarto nei tribettati sono un po un po troppo basse sarebbero anche nei sicuri se porta e la bet comunque non ci rispia già affatto ma non riusciamo a creare i piatti giusti poi per staccare off fra l'altro anche su questo river e se hanno 60 tanto ha un po dietro no ok no va bene 60 su 100 quindi siamo attorno a metà pot quindi non che produciamo abbastanza fold equity e la nostra scelta di black qui non è ottimale perché bloccheremo il range che vorremmo coppia avesse mani come a q mani come a k mani come il k suite dei cosiddetti sono tutte mani che vorremmo che l'avversario avesse piuttosto che no e noi stiamo trasformando in black la parte di range che non fa soldi in sostanza mi con l'idea di cosa stiamo bloccheranno quando vogliamo per fare non è una texture dove pagano particolarmente quando diamo le picche la texture è relativamente schieri 77 si è una mano che possiamo avere come può avere anche il nostro avversario in realtà anche se lo stesso spot ma abbiamo scelto un po i blocchi sbagliati per decidere la nostra parte di black in quella dinamica in quest'asso 9 apertura 3 col giocatore che rilancia è un po matto giocatore che chiama è molto passivo in realtà qua farebbe soldi anche uno squeeze è chiaramente un po esploitativo stiamo allargando molto a rendere squeeze ma oppo a pre 60 attenzione alla bassa tribet di franco per cui nel suo range di colpo per le mani anche abbastanza deboli isolare comunque qua l'agro non sarebbe male è vero che poi giochiamo a op comunque qua io opta per uno squeeze quindi va bene fantastico chiama un giocatore agro che ha una linea piuttosto aggressiva post flop chiamiamo su mezzo chiama e chiamiamo va bene contro questo profilo ci sto troppo gira 56 comunque l'impostazione squeeze pre e poi andare a frattare sul bordo di questo tipo la nostra doppia coppia all'asso per intenderci contro rendi questo tipo giocatore così spiui non mi dispiace affatto quindi buona impostazione a mio avviso poi non esagerate esagerata su lettura quindi sicuramente ben impostata cosa sta succedendo qua succede di tutto non ci interessa niente di questa mano va bene le abbiamo messe per flop con kk facciamo girata sasso a chissene iso un po corto mega over bet o lì giocatore mi preoccupa di più il limpo l'in di players ma francamente in uno spot così fiscioso non credo di saper fondare tipo mai perché art arius è un po lo conosciamo insomma un po un matto con tutte le carte il push di questo giocatore così passivo prema abbastanza agro posto di tutto sommato direi che mi giochi resta anche giocatore infatti ero più preoccupato da players invece art arius le gira ma le gira bene perché flop a scala e fra un altro quindi con la mia data di nascita perché si sa che sono dell'85 quindi buona impostazione la size gigante ma siamo di nuovo contro fish agro quindi va bene anche la scelta siamo ultra dip metterei invece cerchiamo vero che ho po le spara non ha nessun dubbio però abbiamo una setto potrazio 13 e possiamo tranquillamente mettere riuscire a mandare le vasche sui tarne abbiamo perso un bur comunque abbastanza coordinato oppo agra come un matto chiaramente ma agra anche c'è che era dietro del range che da cui faremo soldi preferirei mettere su questi bordi non c'è cresco un popo magico ma fra poi le scale art arius è il giocatore più riche della storia mi raccomando la scelta ricordiamoci anche e rendi ricerca poco protetto e su una texture di questo tipo considerando che comunque opolo fonda mai 40 10 linea piuttosto aggressiva è meglio una bet anche perché per esempio su questa tarna fa più soldi l'idea di metterlo lì creando il piatto piuttosto che andare a spazzare ceccolare quest'oppo siamo chiaramente facciamo soldi e ceccolano giocatori di questo tipo ma stiamo regalando equity su queste texture a meno che chiaramente art arius non fosse una modalità super crazy da scoppio tilt blef quello che è minuti beh difendiamo va bene proprio doppio bene c'è che c'è pure il senz'altro va bene blocchiamo non possiamo farci molto e ci sta nel senso se non blocchiamo doppia qui poi tanto quel kk tan arriva parliamo contro l'intero range di villa alle cucù immagino no va bene open tribet siamo op oppo non fu da mai la difesa mi convince scegliamo per un call e offer bet non è una mano che mi volevo mettere tanto spesso che far bet abbiamo i tab blockers contro giocatori cover fonda non ci può anche stare ma in questo caso su questo testo l'opo bet optiamo per un c'è creso p è vero troppo betta tanto 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 spesso tribetta parecchio e la mano alta si candida anche abbastanza bene per essere belle fare resata e mettata poi non mettiamo questo tana effettivamente non sposta equiti e mettiamo questo river su queste texture abbiamo abbiamo scelto nel c'è creso p contro questo giocatore sarebbe interessante anche andare a vedere su su solver perché in realtà non mi dispiace l'idea di voler avere dice cresco quando oppo ci metta cento per cento queste texture che è una linea un po esagerata per il giocatore da bottone si mettere queste texture e cap alto quali maggior che faccia anche soldi certo che poi sui blocchi scambiamo si capa q q 10 10 10 10 10 10 10 10 non c'entra niente capa q 10 e nient'altro in sostanza sono abbastanza dell'idea che questa mano faccia anche soldi giocata così sarebbe da andare a vedere su su solver per vedere quanto stiamo cercando qua ora giusto wizard non è proprio il top per analizzare queste situazioni perché non possiamo cambiare il ring del nostro avversario qua ho poi una linea di esagerata di continuazione bet quindi mi va bene l'idea diversi e cresare tarn e blank la ribarre non è necessaria su questo su questo canale che se avremo motivo per insistere tra sommarla in una tribarra il tanto a black turn sostanzialmente black river check turn comunque ma la scelta comunque fa soldi non è male non ci disperiamo come giochiamo questa non è che ci interessi molto promettato siamo dip siamo ip cerchiamo sales abbastanza piccola ma in realtà va anche bene oppure isola non mandiamo i resti no non mandiamo i resti difendiamo su quello su quanti soldi in realtà quanti soldi quante bb mini sec race sul col qua restiamo a 70 su un po da 140 si poteva anche bloccare flop non che cambi proprio tantissimo e insegniamoci magari nota su come ho poi giocato il suo supernazio ma non credo che potremmo mai giocare diversamente apertura squeeze a 5 per in situazione fish fish quindi la size esagerata un po ci piace oppo è molto aggro questa è una situazione un po problematica essendo un po particolarmente aggro metterà veramente tanto spesso avendo lui meno del doppio del pot questa situazione è un po strana ma fa soldi anche in l'indiretto senz'altro ma ho pa meno dei suoi 70 60 70 bui quindi mettono lì fa sicuramente soldi e cercare tu col non è neanche così terribile visto che ho poi le spara con l'intero range qua non fonda mai pre apre tutto lo fonda mai siamo ancora avanti e cercare tu fold è un po eccessivo contro un giocatore di questo profilo comunque decidiamo di cercare per chiamare questo verbetto va bene può anche andare contro giocatore così aggro non mi dispiace affatto la multa contro altri giocatori senz'altro potremmo possiamo cambiarla ma non è questo il caso quindi non gli speriamoci size un po più lunga del normale texture dove gli oppi colpiscono tantissimo mettiamo alziamo size va benissimo senz'altro oppure un 60 10 text con l'imp collato pre quindi per il suo colpisce tantissimo bassissimi for sui turn non abbiamo il pot per metterlo decisamente lì sui turn per quanto fuori veramente poco poco danno non è neanche ancora un granché perché le sue range del col abbiamo delle 5 della 66 della c4 della c3 della c2 in realtà e quella text dove colpisce tanto è anche abbastanza aggressivo quindi un'altra bet ne andrebbe bene scelta anche la stessa un po più piccola libera un altro bruttissimo river perché tan river migliorano entrambi regge il nostro avversario non è aggro ma non è così aggro come un sacco di altri giocatori e un small value quasi fa fondare tipo sempre prendiamo valore da poco poco cosa può chiamarci qua 6 7 4 5 a scala e 2 milioni di doppio migliore di top air non credo si possa fare niente e tra l'altro la size mezzo puzza tantissimo di valore quando ce la fanno questi giocatori forse dovremmo riuscire a trovare con fold ora oppo chiaramente li ha un po di tutte qua però è una text dove veramente ita troppo tanto flop è un board già molto buono per lui tar migliore suo range river migliore suo range lasciamo stare il nostro range dobbiamo pensare a 20 l'avversario con la nostra mano specifica ribare il turn anche perché un po betta troppo spesso va bene e certo con river prendiamo nota su questa size bisogna anche credo saper trovare qualche volta il tasto fold su un texto di questo tipo mica sempre poi mi dispiace ovviamente per cui soppiamo scala contro uno spiui super matto come abbiamo fatto a perdere questa mano va bene pure risiamo flop mettiamo certo le girano poche comunque i nostri giocatori di pifos comunque tutto bene c'è tutto bene ben giocata open tribet col for bet va bene borsani sbambando abbastanza bene stacchiamo ci sta non sto mai a criticare quando decidiamo di giocarci resta k contro il profilo fra l'altro uniti ma un po con tendenza overplay e non è lo sport dove faremo più soldi in assoluto ma riusciamo anche a perdere a k contro a k ci sta eppure stiamo anche rannando piuttosto bene legittimo su 20 mila mani cosa che capitano open tribet senz'altro attenzione al profilo l'eschi super abc quindi attenzione poi come giocata qua in questo caso valutare il fold contro un giocatore 20 10 5 quindi profilo estremamente nitti tight proprio abc qui noi le mettiamo ai 44 avere che c'è un fish a perché sia c'è un altro un po di soldi dietro però al 44 contro l'eschi che tipo di range avrà qua un eschi se lo guardiamo un attimo restamente è un 20 10 5 ultra nitti e passivo sarà complicato da un rende piuttosto forte proviamo a pensare che sia questo anche se probabilmente lo stiamo un po esagerando il range quando è il nostro avversario qua difendiamo al 33 e qui diciamo al 44 c'è anche anto bianco che ci dà comunque equiti in più ma qui possiamo andare a fondare su questo verbetto lì e almeno veramente di non averli visto fare queste move con un range diverso ma io non credo che ho poco a e anche se dovesse girare tutti gli acù e tutti i 10 10 comunque non che quasi la situazione insomma è buona ma è un 5 per cento e paghiamo anche la re che quindi non è proprio lo spot più fico del mondo e io non credo che ho abbia mai asso con i cd 5 sta in questa nuova quindi preferirei non farlo bisogna che sta per trovare qualche raro fuori con la tappa soprattutto in questi profili contro questi giocatori alto blanco chiaramente si migliora un po la nostra equità insomma il nostro è talmente chiuso chiuso che non se può non si può fare non si può fare insomma poi magari non avevamo stasi magari si era appena seduto allora non credo che ci siano troppi problemi open tribet chiama matto tribet amatto cui facciamo soldi esattamente come vogliamo reserei comunque e invece chiamiamo ecco qua non è anche perché entrambi range uno a 100 per cento di vbp tribet 30 l'altro a 100 per cento di vbp è vero che la mano fa soldi anche chiamata ma a mio avviso per esagerazione uno in diretta farebbe più soldi di un col cosa che non farei poi diciamo dopo per c'è che ben te qua risiamo non risiamo mai qui stiamo regalando equity contro i giocatori agri pre flop mi siamo troppo mi siamo tan bet a questo punto chiamiamo ancora proprio non c'è un modo di risale questa mano a meno anche il 5 sposti tanto a parte un 6 e 7 ma abbiamo proprio regalato tanti tanti equiti oppure con setta avrei risato prima attenzione contro i profili spigui abbiamo visto quella tappa abbiamo visto l'altra mano no l'altra mano in realtà la giocata giusta e in questo spot multi way con 3.000 giocatori non che la mano perda soldi giocata così ma mi siamo di valore protezione nel nostro pre flop che è una cosa che normalmente non vogliamo fare soprattutto contro fishe perché stiamo giocando la nostra mano specifica o ma va bene contrattare si difendo perché si sa chi è normalmente non è che sia un fan di difendere diretti centro per ma insomma conosciamo un po il nostro oppo l'abbiamo visto anche qualche altra tavola ha dato abbastanza battaglia queste mani artarius bene per noi open scelta di tribetta 4 per va bene attenzione un po l'oppo questo bollo ci mettiamo ribarellere votarlo ribarelliamo preferirei ribarellare perché da tendenza il nostro avversario comunque la stazza over con la sitana e aggredisce abbastanza quindi qua ci dovremmo mettere troppo spesso in check call che è un po una situazione complicata e qui decidiamo di chiamare 23 29 non è così alta non è così alta abbiamo un altifold da ribare la la preferisco generalmente in questo sport qua posso ci sta legittimo per lui da ribare la preferirei proprio su sulle stazze del nostro avversario triveti p che abbiamo qua regnetti regnetti giocatori un po così va bene la tribetta in questa dinamica col colla la nostra sinistra di magneto magneto che è un super passivo chiama e non tribetta una bassa tribetta è un hitter fold 80 0 super passivo post flop quindi in forte considerazione come gioca il nostro avversario la bett mi va bene a buona anche l'idea di alzare size visto il profilo del nostro avversario senz'altro attenzione a quando chiama qua visto il suo range la bassa tribetta come gioca ha delle overpeer dei set potrebbe avere 7 7 8 8 che comunque sono poche combo 10 10 jack jack senz'altro che vanno a rifare un po in pari e quadri sostanzialmente non credo possa avere altro questo giocatore sei a coppia ribettiamo pure esa equa abbiamo sempre perso ma proprio sempre perso visto che voglio 86 0 25 0 è un profilo ultrapassivo resa qua qui se non gira full e gira 10 10 jack jack forse anche qualche cocco che probabilmente avrebbe con il formettato forse no che abbiamo fondato bravo ragazzo sappiamo quello che abbiamo mai fatto bene fondare qua pensavo avessi chiamato invece assolutamente no o l'indiretto di artare su avere dipendiamo a volte gira anche le mani forti prendiamo qualche nota ma insomma sono quei giocatori contro cui dobbiamo in qualche modo giocare ecco qui è di nuovo la difesa qui farebbe ancora soldi contro il range artario insomma attenzione che gli stiamo comunque mettendo circa il 50 per cento più paghiamo anche della rake è vero che abbiamo una rake back tipo al 60 per cento però stiamo comunque pagando un po troppo per fare soldi a sotto non dico che sia sbagliato quindi non è che ci mancherebbe insomma si sta andando lì in 50 per cento del mazzo viene da sé che insomma è difficile che stavano a perdere soldi magari stava andando lì in tutte le mani chi lo sa comunque contro un range di questo tipo noi facciamo soldi e 48 più rei facciamo 52 5 per cento l'investimento sul 5 di bibi non è male fondare comunque più negativo per intenderci quindi capisco di richiamare quasi la k9 però attenzione a non andare troppo sotto con troppo troppo sotto insomma e non chiamare veramente troppo troppe mani iso un po lungo tribet il giocatore di profilo per player for bet va bene non è il migliore degli spot ma cosa fa il nostro avversario risa tanto non fonda mai aggredisce tantissimo e lasciamo lo bleffare qua lasciamo che se lui a mettare protezziamo il ricetto però cerca dietro questo un super problema non ci piace affatto bene la tarno capisco anche la difesa però a te ha perché siamo i p giustamente siamo i p sì senz'altro assi perché siamo da bottone e allora di un po diversa la situazione c'è che non è che che ci dispiace tra il nostro avversario il tribet a tutto fold a zero e ha cercato questo bordo che non ci rende particolarmente allegri una bet to fold non esiste 70 su 65 contro questi range la mano passa prossimamente soldi bettata fossimo stati ovvi mi andava benissimo il check ci aspettavamo un sacco di bet quando comunque ci chiamo quando può mandare la vasca visto il profilo e l'aggressività capisco bene la difesa ci sta probabilmente una scelta un po' esploitativa un po' esagerata di mandare la vasca flop che chiaramente over però stiamo giocando contro profilo andro per player anche lo insomma sia abbastanza agro e farebbe soldi lasciamo stare le mani e zappo che non ci interessano vediamo qualche altra mano comunque mani come giocate senz'altra e qui come mai abbiamo scelto questa impostazione questa è un'overplayata un po' importante comunista giocatore 30 15 5 apre size lunga ed è una bc l'altro giocatore 50 10 con solo 5 litri bett chiamo verbetta che si può probabilmente raffolgerei addirittura invece che andare a chiamare capisco che mettere quattro su questo po di unici non sei neanche così male ma abbiamo giocatore abc che fabbisani siamo ops in fuori posizioni rischio dominazione riserva ita è un fuori da questo reso un po esagerato e adesso qua come lo giochiamo multi way non abbiamo move diciamo di mettere c'è un riso giocano tutti vabbè e dicevo proprio non è una grande grande squeeze contro un giocatore che ti metta solo 5 con questo profilo passivo perché anche questo tipo di mani questo è un po' si è un overplayata del nostro range quindi un po di mani le stiamo stiamo un po esagerando artarius le manda veramente con tutto abbiamo difesa sotto possiamo difendere la società abbiamo visto un po la soglia a suo dato giocava il 55 chiaro che stessa andando di nati ci questa mano fa soldi e non è che possiamo lasciarlo fare e se continua a fare le sue divertenti questi ragazzi se presenta il grande protagonista va bene o per due e mezzo sai su un altro minuscola hanno qui la nostra siamo noi qua e size troppo piccola in questa dinamica siamo di smoglie contro big blind big blind a un profilo regia fratello ha passato le mani quindi visto che vedo le sue mani quindi immagino mi ha chiesto di un questi giorni visto che queste mani non so che sento lì e back back apriamo 3 per apriamo il nostro range normale sviluppiamo queste dinamiche non facciamo 2,4 è vero che oppo folda abbastanza quindi magari l'ha voluto fare per questo motivo ma rimaniamo un po più concreti apriamo 6 per 3 e oppo ci tribetta small fra l'altro quindi motivo per cui forse questo giocatore crede mi ha passato le mani forbettiamo neanche sappiamo la nostra mano va bene oppo betta risiamo cosa stiamo facendo qua prendiamo la vasca kk abbiamo kk allora ricostruiamo la mano come avremmo probabilmente potuto fare apriamo per 3 oppo tribetta 9 risiamo a 22 oppo chiama il pop 44 e abbiamo 70 dietro su questa texture direi controprofilo mettiamo flop e stacchiamo off turn non è in gran turn chiaramente quando ci escono quadri di nuovo ma se poi oppo betta qua possiamo mandare le vasche su flop no se oppo riesce mettando il pot sarebbe 40 lui avrebbe 65 dietro riesce mettando 20 risiamo la mano finisce sostanzialmente al flop almeno le mettiamo davanti qui ci siamo un po inventati su queste micro size e poi mettiamo sui tanno neanche ma insomma l'abbiamo un po assaisata male se apriamo per 3 small blind vs big blind piuttosto super standard le bosche non folda mai le for bet risiamo la size mi manca abbastanza bene potremmo anche voler esagerare leggermente ma bene tutto va bene ci sta non possiamo vincere tutti i colpi no lasciamo stare le zap che doremo analizzarlo parlato di separato contro artarius artarius quanti soldi i numeri sta facendo col q jack immagino ci fosse un motivo open iso e c'è fish nella mano sì 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 ci piace in realtà l'impostazione poi fruttiamo i massimi super gioia bet raise call non mi ritarne va bene soldare credo non sia plausibile sui tali preferirei lettare comunque dopo il profilo comunque abbastanza netti aperto ha dato azione su questo flop multi way a qualcosa su questo bordo direi che può tranquillamente girare a kq a jack 10 kk jack jack 10 10 di tutto di più non ha molti combo di fiori se ci pensiamo perché si asso 10 fiori a soco fiori che credo avrebbe fatto un certo punto ma direi che possiamo continuare a mettere tali non credo che range nitico di un po possa fondare niente cioè dovrebbe avere da doppia a 7 quindi preferirei mettere qua e questa small bet non mi è molto chiara in realtà beh comunque a me lo possiamo fondare quando ci resa a so con ci sta una delle tre combo che poteva girarsi a fiori due combo visto come acqua a 10 e nient'altro credo di fiori la scelta direi che colmi va bene il flop ribettiamo tarna non c'è troppo motivo di non beccare in quella dinamica iso chiama giocatore che gioca tc cerchiamo questo flop fantastico cerchiamo tarna oppure un po angolo difendiamo sì senz'altro e ecco la scelta di mettere river soprattutto contro giocatore un po corto in questo caso che mette qua non è la migliore abbiamo cap alto quindi un po di valore sciogliano se l'abbiamo veramente pensiamo di riuscire a far soldare all'opo una coppia di due per intenderci qua per dire no nel senso una mano un po diversa dalla sua alta magari qualche ascolta potrebbe anche portando quindi qualcosa perché ce l'abbiamo di valore ma dubito che sia questo lo spot dove vogliamo trasformare in black su questi bordi qua o poche a 67 ma è vero che ha circa tc è vero che comunque abbastanza aggressivo anche se sono 14 di metto smith ma la scelta di trasformare in black i quadri cerchiamo di togliercela in generale poi abbiamo chiamato k jack con tartarius sia tc non è che faccia così male chiamare cap alto in realtà contro questi giocatori un po sclerotici adesso qua la vediamo contro il ranger 50 per cento insomma e sappiamo che la mano insomma fa ancora soldi contro un gioco se veramente sta mandando la vasca con tutte le due che stiamo qua a raccontarcela la mano fa soldi difesa attenzione però a cosa difendiamo perché non è che abbiamo veramente tutta questa fretta di portare via soldi all'avversario sono tutte le scelte nevi il sapo qua sta mandando la vasca metà delle volte sono più per il fold se veramente la sta mandando il 100 per cento delle volte fa soldi anche un buon cap alto perché si è vero quanto ogni tanto al asso ma non ha così tante volte lasso in realtà qua il nostro avversario se pensiamo a quanti assi ha proprio proprio appuntiamo anche questi anche se ha messo come ha detto sono 190 volte gira l'asso che è un po un problema ma sono meno di 10 per cento delle volte in sostanza di volte in cui gira l'asso tutte le altre siamo tipo sempre buoni noi cosa è successo qua è finita la mano se ti sei se baggata non ho visto cosa è successo rivediamola allora cosa succede for the fold iso se baggata probabilmente una mano baggata contro un giocatore immaginario e better esiamo chi lo sa cosa è successo vinciamo noi avere mano baggata fra l'altro ce la dà vinta noi ma perdiamo soldi mistero sarà un problema di conversione le tappi se che se la prima volta che venga una mano pagata da qui le scelte di squizzare qua abbiamo sdf che in realtà di solito gioca nelle 25 più ma ogni tanto soffre anche di un po di tilt e col di reg che non dovrebbe chiamare lo squizza un po eccessivo a mio avviso stiamo squizzando un po troppo in questa dinamica tribettare contro original riservi va anche abbastanza bene squizzare contro due un po meno anche perché original riservi da generalmente poco giocatore che ha chiamato è un rag un po nitti quindi su range sta sempre difendendo ci troviamo troppo spesso molti cui qua a mio avviso stanno un po esagerando poi risa e chi difendiamo il nostro botto ma qui stanno veramente andando un po a spada tratta qui abbiamo fatto un po un po il nostro come dire la nostra il nostro macro leak che è quello di avere un po una tendenza di over playing che non mi dispiace perché comunque fa tanto fa tanta esperienza fatta anche soldi non è che non faccio soldi ma lì eravamo un po fuori dal range già per flop squizzando su due che probabilmente è un po sotto va bene in qualche circostanza non va bene cento per cento alla volta non va bene contro regge un po niente che fonda poco e bottone che comunque è un pc quindi folderà poco anche in quella dinamica e poi difendiamo for betto e stiamo difendendo sostanzialmente intero range e stiamo un po esagerando qui lo squeeze un po più lunga come size original riservi un po profilo fish e toni profilo fish quindi buona la scelta con l'indiretto complicata con la difesa comunque qui è tutta questione di che regge l'avversario non è che ci siamo te lo dire ne mettiamo a 39 ricordiamoci di scontare un po di rake perché la pagheremo pagheremo il massimo della rete in questa dinamica ma abbiamo 10 10 è solo questione di capire qual è il nostro avversario torna qui 10 10 ce l'abbiamo qua dobbiamo metterle diciamo al 44 per cento anche se forse lo stiamo un po esagerando la nostra la nostra approssimazione bond perché scoppio del manager 44 con la contro 10 10 sono uno scemo va bene ho fatto il contrario di quello che volevo fare non importa cosa del nostro regio ma cosa il 44 contro lo storico dipende dal range del nostro avversario cosa giocherebbe così io direi profilo abc vedo una forbetta il 4 ma il 3 su 60 non è che ci vuole dire proprio tanto io credo che di base a un giocatore comunque pc non credo che darei un range maggiore di questo contro questo range a vedere 44 e c'era motivo per cui tutto era strano in quello che stavo facendo qui software ci dice cucù più se rendi dopo fosse non cliccare sbagliando se rendi dopo fosse maggiore quindi ma qui di nuovo è una forzatura pensare che oppo di questo profilo abbia un 5 che non credo abbia mai in questa dinamica comunque se avesse questo range se riuscisse a cliccare se ssse un sacco di sé anche in questo solo in questo caso inizia a coprire i 10 10 come porto breggio io direi che qua è un folder per flop dopo quest'azione è proprio perché stiamo esagerando in è chiaro che se avesse di più di così ma possiamo veramente pensare che abbia più di così un giocatore di questo profilo mi sembra proprio una forzatura quindi 10 10 si può fondare su un po più grandi possiamo anche andare a difendere in questo caso direi che è una mano perdente non che ci piaccia molto fondare perdere 18 bb visto cosa abbiamo fatto abbiamo accaduto size e qualcosa ci è saltato in mente di fare abbiamo tribettato un 50 10 di profilo ultrapassivo anche questo è un po l'impostazione di over playing ecco non sono un fan del col col però abbiamo paradiso che chiama sempre e danny che comunque è giocatore di profilo abcica molto passivo che non rieserà mai probabilmente qua fa soldi anche avere un ricerco ovviamente senza probabilmente fa soldi avere una linea di col col giocheremo spesso triwey giocheremo spesso ovviamente in posizione spesso dico perché avremo squizzati molto poco in questo giocatore a 0 0 su 470 mani preferirei il call anche esplicativo ma non tribettare questo giocatore tra l'altro mettiamo qua un po non fondata ancora una carta alta c'è che c'è che a questo punto non sappiamo tutto da fare mettiamo ma qui siamo andati a giocare alzando la voce contro una colline station e abbiamo fatto far soldi alla connessione 50 10 attenzione a con chi scegliamo di giocare il nostro profilo per player contro un giocatore di quel profilo non va decisamente bene avviso quindi va bene stiamo trovando un po di errori sono contento se no non servire niente oppure per cinque cuore senz'altro lo check qua capiamoci 80 10 che ci beta il 50 un altro giocatore passivo la bet non mi dispiace perché abbiamo un bordo molto dinamico un giocatore passivo che ha chiamato preflop un giocatore che fa 6 big e apre comunque solo il 20 per cento e comunque col da poco e non aggredisce così tanto 30 di cibre 50 di cibre 30 di aggressività 20 livelli verso smith anche se non è questo la dinamica della bella verso smith ma per capire il tic in process e come il nostro avversario sviluppo sui livelli di pensiero su questa text preferirei mettare alzando anche size perché mettendo 15 creerei un po di 45 separ che mi permette di staccare off praticamente sempre soprattutto contro gioventù magari un po meno contro me che e cercare qua ci fa rischiare di trovare due check il range che metterebbe comunque job gioventù 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 si ha senso che manca sono la ma che sono l'accento ma è circa lo stesso che ci chiamerebbe per cui dover card a fiori le overpair e comunque mani abbastanza forti che comunque ha neri preferirei mettare tra l'altro betta il giocatore passivo che è un disastro nel senso che contro il suo range rischiamo pure col set ma va bene a questo punto riseremo ma non è proprio lo spot che volevamo cioè mettere qua ci permetteva di prendere più azione del range molto frequente cercare contro un giocatore così passivo 55 39 20 rischiamo di essere contro cioè 6 99 7 8 e magari se proprio si sente forte vista la prima in massa qualche kkk qq a fiori ma comunque preferivo mettere io e opo gira 7 8 tutti ti troppano scala ecco vedo che hai uno di don bet quindi non hai proprio un'impostazione di don bet su queste texture lascia scarleto linee generali decidi se è il caso di mettere o meno certi aspetti frequenti check abbastanza 50 30 50 20 giocatori passivi texture che colpisce molto e colpisce le ringe degli avversari preferirei mettere a livello sono riuscito a trovare un po di mani qui chiami ip contro un 60 10 che fa big size non dico che sia sbagliato in termini di valore contro la mano il fold lo preferirei proprio perché al 60 10 vero che abbastanza passivo per questo può anche giocare la mano e c'è l'altro giocatore va bene marginale va bene difendiamo siamo un po limitate proviamo difendiamo senza risale senz'altro raise qua mamma mamma va beh direi mettiamo al 30 abbiamo coppia più proprio più dro ma contro giocatori di questo profilo sappiamo che comunque ne mettiamo da dietro chiaramente 33 per cento di equiti se vincessimo sempre noi andrebbe bene nel range di opo ci sono 29 e senz'altro degli assicur senz'altro due redotti di set è un po il limite ma foldare 40 su questo pot e non credo si possa fare quindi vabbè prendiamo un po di camire stia proprio 9 c'è però giocata un po borderline ma comunque una volta che dice quel bordo non credo potremmo andare overticare per pensare di lasciare la i 30 bui che ci sono già sul piatto sarebbe un po folle pulperato terribile ci vediamo per il c'è come ti vuoi va bene oppo betta in un profilo passivo chiamiamo solo senz'altro di voi facciamo scarabette raise tonio ecco qua possiamo foldare tonio è un 55 5 io so che rotondo sempre ancora più passivo non folda mai passivo passivo passiva una station station che resa quando abbiamo si scaletta ok non è male ma è scaletta e borda è pirato può tutti full anche delle mani più forti perché è talmente passivo che anche di dk vogliamo e fosse stato con solo contro la zone azione direi che possiamo difendere in questo caso possiamo foldare fatto con trazione avremo vinto ma non controllato l'attenzione è vero la mano è forte quello che vogliamo ma è una difesa esagerata siamo tanti spot exploitativi contro più tanti diversi spot exploitativi contro fishe li abbiamo giocati un po un po perché ci sentivamo costretti a farlo ma non lo siamo soprattutto se noi facciamo startare i tavoli troveremo veramente tanto spesso situazioni ultra fisciose ma cosa sta succedendo su people's poker vabbè non le mie 5 spesso giocheranno così io direi che a meno di non nota che sta andando lì con tutte le mani cioè tutte le mani spesso io credo che avrei anche trovato il testino fold poi è un fuori esagerato però le mettiamo al 50 per cento vabbè ma abbiamo già visto come si decide cosa chiamare per flop immagino che avessimo una lettura siamo posta andando lì con zx6 quindi il colmi ma sicuramente bene non ho proprio i dubbi vediamo qualche altra mano però credo che ne abbiamo visto abbastanza in realtà o mamma qua cosa facciamo non so cosa fare io io credo folderei pre flop è un giocatore 54 2 ultra passivo vero che ha solo 40 bui dietro c'è 30 bui dietro quindi 43 bui quindi è un po difficile pensare di voler veramente fondare mamma mia contro 52 2 a corsa può fondare se fondiamo pre flop questa non ci serve qua dopo gira sasso ma non credo che girerebbe tanto meno insomma visto il giocatore non sentiamoci costretti a giocare questi spot tornate un piccolo istante perché ci sono cose in corso va bene ci sono subito prendiamo attenzione sulla review per 7 secondi perché ho cose in corso un'altra parte bene fatto la casa non andrà a fuoco perfetto in realtà si è sentito benissimo il clic del telefono ma la burusa è arrivata a scuola quindi bisogna rispondere open call giocatore un po spostato nel senso proprio abbastanza l'uso aggressive post flop diventa molto più tranquillo quando non è lui ad essere l'aggressore bassa da un bet bassa bett verso smith ed bassa tan bassa river bett invece quando è lui l'aggressore al giocatore che le spalle in tutti di più qui metteremo senz'altro e saremo anche size visto troppo fonda molto poco non mettiamo due non mettiamo due o può vero che ti rimetta 20 quindi lascia non dovrebbe tipo mai avercelo però gioca un sacco di mani a diversi diecini range a poche combo di incastro alto perché mani come kq k jack e tutta questa parte qua la tribetta potrebbe avere forse marginale dei jack 9 off degli 89 off che probabilmente non sta tribetando e diverse magari combo basse 32 suite 3 4 suite del 5 x 6 7 8 9 8 7 ma di questo tipo è comunque un giocatore che donka 10 quindi non è che donka intero range e folda abbastanza poco mettiamo e mettiamo salis un po maggiore proprio alta quindi banderebbe 3 5 6 bui in questo spot un po con la tarn non sposta un grand che ma migliore qualche modo range di 8 un paio di doppie e poche 58 suite da 10 8 anche bloccherata però migliorano mani come 7 9 8 9 6 7 tutte maniche nel range alziamo flop ribarelliamo tarn anche perché la river betta bassa un po betta sul tarn siamo ancora buone noi buoni noi perché ha dei 18 ad 58 ad 6 7 che probabilmente sta iniziando a mettere dei 7 9 quindi presere abbastanza sereno ma su un piatto un po più grande risiamo 30 quindi senza un po piccola è un po piccola anche sui tarn quando il giocatore di questo profilo donka 10 donka tutto il range che vuole giocare no 10 per cento a più o meno le volte che ha qualcosa qua il suo range sta mettendo quindi alziamo size non dovrebbe fondare il tipo mai col river 4 migliora solo 6 7 3 2 4 e 5 la migliore anche abbastanza il range del nostro avversario abbiamo creato il piatto un po piccolo non credo fonderei probabilmente neanche risarmi va bene ha per crescita anche picche e tarn un po un disastro ma qui il disastro più che altro aver creato il piatto un po sbagliato per migliora equity dell'oppo arriva il migliora abiti dell'oppo chiede delle scale chiude dei colori chiudete le troppe che battiamo senz'altro ma avrei alzato flop e su quando donka torta non posso anche metterlo in e sono abbastanza sicuro che nel range sono molto 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 spesso buono su queste river un po meno perché qua chiamiamo 5 10 che c'è la presa di c'è la presa di però mi raccomando l'idea alzo size flop reso thun mi commento se poi oltre a farsi di questo non è nel runner che sia ma almeno le mettiamo con un buone di piuttosto che ne sono quattro che ha migliorato le scale migliorate colori e ci ha fatto un po del male in sostanza comunque non è che si possono aumentare siamo 20 dicendo che sono solo gioia iso bordo abbastanza pessimo abbiamo una tonnellata di equiti giocatori passivi c'è va bene la maglia ma quanto corti sono queste tizze me ne accorgo ora che secondo quello che ha di più a 30 bui in questo sport va bene un po un disastro bel piccola va bene anche la difesa e va bene a questo punto non credo si possa più fondare va bene da 10 ci sta ma qui essenzialmente corti di avversari c'è 30 bui su un po di 110 bui di potenziale che non credo veramente sposti tanto come lo giochiamo la beta troppo non sarebbe terribile ma contro stack così corti va bene anche l'idea di non mettere in realtà diciamo full exploit ma va bene cosa succede qua open per due di un giocatore capri 50 per cento col dell'altro va bene lo squeeze di valore aumentato nome di spazio affatto volperato il pot 22 a 32 dietro possiamo metterlo lì non c'è tanto da pensare o poi ha aperto per due ha chiamato difficilmente a tutte le parti di un sport e come 10 di 5 8 più che avrebbe risalto probabilmente con 6 più grande o comunque avrebbe bloccato pre e ancora sicuramente qualche carta alta ma non così tante il pot 22 a 30 dietro quindi a una volta e mezzo il pot è proprio una soglia di confidenza finché mi arriva supporti venti ad avere fino a 30 siamo contro fish non cambia niente se anche abbiamo veramente solo una full equity del 15 per cento stiamo già facendo soldi più le nostre over cards e il fatto che la nostra possiamo ancora avere la mano buona ecco la size un terzo non mi piace un po e adesso a questo punto dobbiamo no non sappiamo più cosa fare vabbè bet colpa un po un disastro avevamo diverse occasioni per metterlo in prima direi che lo metterò in al flop vista il pot non metterei piccolo perché vero che è corto quindi non è un grande errore ma li faccio realizzare equiti e non farei la scelta di cercare tipo mai poi un giocatore passivo realizza poi ok la bet to call è ancora più problematica per coppola lanciata aperto quando series a river con 10 bui dietro non ha mai un range di blef ha chiuso troppe cose trattare quadro e quadro è palese prendiamo nota però sul nostro avversario che ha aperto per due queste mani che di solito fish di questo profilo apre con size maggiore quando apre per due gira più spesso mani come 7 8 8 9 mani di quel tipo 10 9 jack 10 10 magari difficilmente gira capace su interna mano un po più forte ma comunque stiamo registrando da tre quarti d'ora credo che possa bastare probabilmente come video e tanto tanto buon gioco buone strat buona size non abbiamo analizzato bene i tribettati e saremmo una cosa da fare è questo magari lo faccio adesso prima carico il video poi risponde gli altri messaggi poi vado a fare filtro e a giro due punti del nostro video assieme a un po di video perché è vero che c'è tanto gioco expectativo contro giocatori un po di tutti i tipi però si mette al 50 per cento dei tribettati è un po esagerato c'è un po bassa abbiamo un range abbastanza ampio a volte con le impostazioni di over playing quindi capisco che anche post flop si vada un po a mixare la strategia piuttosto che impostare una sorta di strat lavori solo sui vantaggi di ranger sui borda per poi sviluppare per la river con solver ma è comunque la frequenza abbastanza bassa ho notato un po di giocato esploitativo un po al di l'arma che seguono un po il nostro tempo di essere ovviamente over player ok quindi non aggro esagerato proprio trasportare un po troppo il nostro range e poi non saper trovare il tasto fogli in diverse mani che francamente credo si possa sapere se potessero coltare diversi colla per flop quella c'era quella curta era quel 10 mi pare c'erano quel kq poi post flop l'altro troppo al post flop e un po un gioco passivo contro i giocatori un po agri la mancanza di lettura forse sia nei profili un po più un po più fischi tra l'altro non so se hai guardato già i tre quattro video che ci sono sul profilo dei giocatori sui ranger sui loro thinking process sul sizing sul diverso è stato un po trazio sulla pianificazione del pot e quindi darci un occhio perché diverse di queste mani che abbiamo perso qui potevamo che ne perdavamo uguale probabilmente ma o perdavamo meno oppure le perdavamo con un ev maggiore ora alzare v a uno che fa 2200 e 120 dire come è che subito di una mano un po complicato ma noi ci proviamo e lo faremo lo stesso dito questo ragazzi vi saluto per il video di oggi è tutto un saluto alla prossima dell'orto bye bye